Si chiama Jenny Stena, è una donna di 103 anni di età, la quale è riuscita a sconfiggere il Covid-19, il coronavirus, e la prima cosa che ha chiesto questa vecchietta amabile dopo la guarigione è stata una bella birra ghiacciata. Nonostante la grande età, considerata fattore di rischio importante, la donna è riuscita a guarire dal Covid-19, dove ha festeggiato una rinascita, con un brindisi, e la prima cosa che ha chiesto la famiglia è stata una bella birra fredda. La donna è nata in Polonia, presidente da Anima, Massachusetts, negli Stati Uniti d'America, ha contratto il Covid, e era a casa di cura in cui si trovava. È stata pensata la prima paziente della struttura, ma è stata consapevole da subito della gravità della situazione. Come vi fa sapere Shirley Gunn, la nipote, al punto che prima di andare in ospedale, ha salutato tutti i suoi familiari, convinta che tanto quella sarebbe stata proprio l'ultima volta. In realtà, dopo 21 giorni, la donna è iniziata a stare meglio, e alla fine il tampone è diventato negativo ed è guarita dal coronavirus, dal Covid-19. Un miracolo in piena regola per i medici che hanno permesso, hanno consentito ai familiari di farle visita. Vi ringrazio per l'ascolto, la prima richiesta che la donna ha fatto è stata, ripeto, quella di bersi, di farsi una bella birra fresca al diavolo all'età avanzata. Bene, questo è un esempio di vita, è un esempio di vera e propria speranza. Jenny Stena, scrivetevi questo nome che ho sogno. Ciao, completate il mio Jenny Stena, iscrivetevi al canale. Al prossimo video, una buona giornata a voi.